voglio provare a mettere la scritta che mi venga fuori player no? cioè la scritta del giocatore che venga gialla mettiamola ad esempio possiamo cambiarla sia di size no? in teoria facendo così no? questo comando così size uguale uguale eccolo qua si vede che sono un programmatore no? size uguale 25 sarà grandissimo 18 dai non so size uguale il numero così e chiudiamo qua e alla fine qua scriviamo sempre sempre aperto dobbiamo mettere la chiusura the size è chiuso ok però così grande io direi anche un colore facciamo color così tac color uguale eeeh orange orange anzi mettiamo pink che pink è un codice non mi ricordo se è orange se si riesce a andare così però il pink è un codice che è questo qua così f 5 4 eeeh 2 e f sono cieco e f viene fuori pink bisogna mettere questi comandi no? tac e anche color finito dopo quando dice finici size finisce anche color no? finisci anche color chiuso e voglio fare anche il super mega fico e anche fare italico il tutto no? anzi bold quindi vediamo se mi viene fuori bold devo mettere tutto quanto prima così b chiuso e alla fine di color devo mettere anche qua b chiuso se ho fatto chiuso b ok vediamo che succede con questo con questa cosa ah vediamo che succede siete curiosi? hai visto? viene fuori così fuori così fatemi vedere se viene più grande se metto 25 perché sono curioso e bold era così italic beh molto interessante trova qua se metto 25 vorrebbe ingrandirsi e al posto essere bold io voglio sottolineato sotto bisogna mettere sub vediamo se viene fuori forse dipende anche dalla posizione in cui lo metti dove come quando vediamo però però questa qui è una cosa interessante dopo la prossima volta magari vedo di preparare perché io mi sono preso degli appunti tutti i miei per ah no c'è qualcosa di strano che ho combinato qua si vede fatemi addocchiare meglio i comandi di bot friend per andare meglio prima ah boh a parte lo spazio ecco questo qua non doveva esserci forse sup ok vediamo se questa roba qua ti manda tutto un spazietto non funziona niente eh ah ah no te lo mette sopra no te lo mette un evidenziamento superiore ah ok 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 te lo mette così sopra no e lo mette a futura bootcamp così si ok però a me non interessa così voglio vedere evidenziato adesso mark bisogna scrivere quindi andiamo a cambiare da sup a mark 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 no è da perdersi con sta roba ma se è arrivato che tinga la star roba visto come viene fuori metteremo così dipende dal colore che metti no però così ti viene fuori il esempio tipo questo account si chiama metta futura bootcamp però i vostri account personali avrà la scritta personale no ad esempio cambiamo a posto di mark lo voglio italico quindi italic e i italic e i e i size 25 no 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 cosa ho combinato size 25 adesso voglio fare una size enorme come metta futura bootcamp vedi che italico è un po' più così spostato no ha sottolineato quella u fatemi vedere sottolineato come viene fuori u sottolineato si dice u underline probabilmente eccoci qua boh mi piace vi saluterò facciamo una cosa organizziamoci su delle cose degli argomenti da trattare la prossima volta che facciamo tutti assieme delle cose guarda proverò sti link utili da farvi vedere e vi saluto alla prossima va bene ragazzi io ora stacco che vado a mangiare qualcosa ciao a tutti grazie